La paura è sentirsi soli, soli in una strada buia, a volte anche a casa durante un viaggio o magari in mezzo a tanta gente, guardare un figlio che esce per strada o va su internet e non sapere chi incontrerà, sentirsi soli perché stranieri in un paese in cui si è giunti attraversando un mare infinito. Non saremo mai più forti della natura, non possiamo promettere di vincere ogni battaglia, di far sparire i cattivi come per magia, ma non ci arrenderemo mai di fronte all'ingiustizia. Oggi vogliamo mettere le vostre paure nelle nostre mani e dargli un po' di luce, che a volte è una luce blu lampeggiante, ma ancora più spesso è quella luce che viene dallo sguardo di chi ti sta vicino quando ti senti solo. Noi sappiamo che c'è un dovere che lega forte noi poliziotti a tutte le donne e gli uomini che vivono nel nostro paese. Il dovere di esserci, sempre, a volte quasi invisibili, a volte trattenendo le lacrime, a volte sperando non ci sia più bisogno di noi. Perché ogni poliziotto è figlio di questo paese, né è cittadino, né è parte. Per questo ogni giorno, ogni notte, in ogni momento sappiamo di doverci essere, di volerci essere. Perché questa è l'essenza della nostra missione, portare via la paura. Ovunque siate, chiunque voi siate, non avere paura è un vostro diritto. Esserci è il nostro dovere. Polizia di Stato, esserci sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.